salva amici e rino scorpione quest'oggi ho queste due radio uno herbert presidente e un lincoln sempre della president e sono esattamente dell'amico marco in provincia di pavia per quanto riguarda il lincoln è arrivato con l'aletta dissipazione posteriore spezzata sicuramente un problema dei corrieri il quale purtroppo vanno a spesso per fretta a buttare i pacchi insomma senza prendersi cura di quello che c'è dentro ovviamente è inutile scrivere fragile perché non nemmeno lo leggono più entrambi le radie sono a corredo con il microfono originale cavo di alimentazione per cui la richiesta dell'amico marco è quella di migliorare la modulazione su entrambi le radio però per quanto concerne l'herbert dice che esce molto basso di potenza quindi probabilmente sia che sia il finale da sostituire anche perché su quello che mi ha scritto diceva che puzzava un po puzzava un po di bruciato per cui ci sarà qualcosa da controllare ovviamente mi chiede di l'amico marco di migliorare la prestazione in entrambi soprattutto in modulazione e controllare se sono in frequenza ho collegato la lincoln è la prima cosa che ho fatto ho impostato la frequenza dove solitamente faccio qualche prova e appunto sto verificando se è in allineamento sulle ssb sto partendo dalla lima sierra bravo quindi ritti perfettamente al centro hf accesa medesima emissione sempre radio attenuate questa è attenuata da da tasto lock dx quindi faccio qualche prova è leggermente spostata come anche in ricezione per cui farò l'allineamento sulle ssb invece per quanto concerne l'emissione in am mettiamo power a metà i watt ci sono o la o la ma la modulazione prevalentemente o la scarsa o meglio originale la radio si presenta molto molto bene mai stata manomessa o toccata o riparata per cui ho eseguito l'allineamento le migliorie richieste quindi anche sul fatto che avevo tralasciato che appunto la radio mi dice l'amico marco aveva un problema sulla ricezione almeno secondo lui non non riceveva bene però io ho fatto tutti i test la radio riceve molto molto bene la ricezione va benissimo su questa radio io ho eseguito come accennavo prima i vari lavori richiesti per cui adesso questo breve video è inerente alla ricezione mi trovo in usb e sento tranquillamente le comunicazioni molto 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 performanti molto molto eccellenti ecco qua famoso canale 45 ecco l'amico roberto criminal prova finale dunque emissioni in lima sierra bravo controlliamo l'allineamento 123 prova 123 prova o la perfetto o la alziamo un po più di volume radio ovviamente attenuate o la troppo o la 1 2 3 prova o la 1 2 3 o la o la riz perfettamente al centro o la proviamo uniformo sierra bravo uniformo sierra bravo o la 1 2 3 prova 1 2 3 prova o la vediamo i watt perché mi ero già dimenticato o la o la ola o la ola o la o la o la ola o la come la casa madre o la ola o la qualcosa sopra i 20 watt modulato ola quindi ricezione o la 1 2 3 trova uno due e tre prova ci siamo passiamo in AM, spegniamo l'HF, importante, ecco qua, nella tolleranza, spettro pulito, ola, 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 mettiamo VAT al massimo, ola, ola, modulazione eccellente, ola, ola, abbiamo un ripple che arriva a punte di 20 watt, ola, perfetto, ola, e la modulazione eccellente, ola, mettiamo di nuovo VAT al minimo, modulazione, ola, sempre eccellente, ola, e c'è una partenza di un VAT e mezzo, con un bel ripple, questo è il tutto per l'amico Marco in provincia di Pavia, il Lincoln, prima serie riparato, ora passo alla President Herbert.